Il 24 dicembre torna ad Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata una delle tradizioni più antiche e magiche del Natale, quella delle fiaccole. Un appuntamento che viene preparato già dall'autunno quando i fiaccolai iniziano a cercare la materia con cui costruire le fiaccole, tipiche cataste di legna a forma piramidale, alte fino a 7 metri, che costruite in ogni angolo del piccolo borgo medievale, si levano al cielo in attesa della vigilia, quando poi verranno incendiate. Una lavorazione impegnativa che coinvolge tutta la comunità. Si intrecciano tronchi sfidando la gravità grazie a tecniche segrete che qui si tramandano di generazione in generazione per celebrare un rito del fuoco che coinvolge tutti, sposando simbolici significati pagani e religiosi. Si è una tradizione lunghissima, noi non inventiamo niente e non vogliamo meravigliare nessuno, solo che è una tradizione meravigliosa di suo su questo rito del fuoco, una tradizione che affonde le radici al tempo dei Longobardi, nei riti nordici del fuoco che poi è stato raccolto dalla cristianità e quindi si è inglobato con la grande storia dell'abbazia del Santissimo Salvatore. Sono oltre 30 e quindi praticamente il paese è disseminato di queste cataste di legna, specialmente il borgo medievale. Una suggestione fortissima che la regione ha deciso di valorizzare. La regione vuol fare con Abbadia e con i comuni della Miata una battaglia proprio per renderlo patrimonio immateriale dell'umanità.